Troppi sprechi nell'aggiunta Mitidieri e quanto denuncia in un'interpellanza Mariano Labanca, capogruppo all'opposizione con il PDL in consiglio comunale a Lauria. Gli atti comunali, ha spiegato il consigliere di minoranza, fanno emergere che i compensi dei due assessori esterni superano di circa 1000 euro la indennità dei tre assessori eletti e dello stesso sindaco Gaetano Mitidieri. C'è da rimanere sbalorditi, ha affermato l'esponente del PDL. Alla luce della crisi sociale che attanaglia tante famiglie, ha spiegato ancora la banca, certi episodi fanno male, soprattutto perché ci si scontra con una politica che sembra non voler mai rinunciare ai suoi privilegi. La politica locale costa troppo a Lauria, secondo Mariano Labanca. Bisogna risparmiare, in sostanza, il senso di quanto riportato nell'interpellanza del consigliere PDL. A rendere poi il quadro ancora meno chiaro, tuona il consigliere che siede tra i banchi dell'opposizione, i numerosi tagli governativi. Tagli, prosegue il leader del PDL di Lauria, che incidono ed incideranno notevolmente sulle casse comunali. La banca contesta dunque lo fa senza mezzi termini gli sprechi della politica di Lauria e soprattutto gli stipendi d'oro dei nominati dal primo cittadino Mitidieri. I costi della casta, un argomento d'attualità per la politica anche a livello nazionale. A riprova di ciò l'azione del governo Berlusconi prima e ora quella di Monti. Entrambi imbegnati, si legge nella nota del gruppo di minoranza in manovre correttive che richiedono per l'ennesima volta un enorme sacrificio a tutti gli onesti cittadini che pagano le tasse. Infine ciò che interessa al consigliere comunale, le misure che la giunta Mitidieri intende attivare per ridurre i costi della politica cittadina. Una domanda che attende una risposta e al più presto.